Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, un buon weekend di Pasqua e dunque tanti auguri. Mi raccomando, commentate nombrosi, lasciate un bel like e iscrivetevi numerosissimi da questa parte. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale YouTube, qui sotto c'è il link, appunto questo, oppure iscrivetevi qui. Novità, per quanto riguarda il mercato Milan c'è un nome nuovo, non nuovissimo, nel senso che qualche rumor si era già arrivato, però un nome che va attenzionato, perché lo scrive la gazzetta il giorno dopo aver incontrato Furlani. Capite, capite, poi il collega Bianchini è molto preparato. E il nome è quello di Yusuf Fofanà, ce ne sono tantissimi di Fofanà, lui è un 25enne, è nato a Parigi, un 85 appunto francese, che gioca nel Monaco, con cui il Milan ha ottimi rapporti, tramite appunto Moncada, anche se con Balloture è andata malissimo. Scadenza 2025, tanto cara, un anno solo di contratto, tanto caro a chi poi vuole andare a comprare nella fattispecie al Milan. Un motorino instancabile del centrocampo, un mediano con caratteristiche di interdizione, caratteristiche difensive, che quest'anno ha fatto però anche due gole e tre assist in 24 partite. Lo scorso anno due gole e due assist, l'anno prima anche quattro assist. Profilo da attenzionare per il centrocampo, che con la Francia comunque ha 17 partite e tre assist, ha giocato anche la finale del Mondiale, 17 partite e tre assist con la Francia, insomma potrebbe essere un giocatore interessante, ha un anno solo di contratto. Si inserisce nella lista dei papabili per il centrocampo, in cui c'è anche quello che può essere il grande sogno, che è Frenturam, c'è Oiberg, Amrabat mi è stato un po' raffreddato negli ultimi giorni, Renato Veiga, insomma sono questi i profili, si aggiunge anche Fofanà, che sembra interessante. Poi vi devi vedere sempre il salto in una grande squadra, detto che il Monaco comunque non è una piccola squadra, però ricordate Balloture, fu un disastro. Ditemi che ne pensate, se vi piace come idea, se lo conoscete, se l'avete approfondito, spiegatemelo un po' anche voi. Lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte numerosissimi. Ancora un buon weekend e tra poco stasera il Minan.